Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome Le lance a vapore Marlow è uno dei più piacevoli centri fluviali che io conosca. È una cittadina movimentata e vitale. Non molto pittoresca nel complesso, è vero. Non di meno vi si possono trovare tanti angoli e cantucci, solidi archi nel diroccato ponte del tempo, di fronte ai quali la nostra fantasia ritorna ai giorni in cui Marlow Manor aveva come signore Algar il sassone. Prima che il Guglielmo il conquistatore se ne impossessasse per donarlo alla regina Matilda, prima che passasse ai conti di Warwick o all'accorto Lord Paget, consigliere di quattro sovrani consecutivi. Anche la campagna all'intorno è incantevole. Qualora dopo una gita in barca si provi il desiderio di fare una passeggiata mentre il fiume stesso in quel punto dà il meglio di sé. Il tratto verso Cuchem, passati i boschi di Querri e i campi, è splendido. Cari vecchi boschi di Querri, con i vostri sentieri stretti e ripidi, con le vostre piccole radure irregolari, come mantenete vivo nel ricordo il profumo delle assolate giornate estive. Come è popolato il vostro scenario ombroso di fantasmi dai volti ridenti, come cadono dolcemente dal mormorio delle vostre fronde le voci del passato. Da Marlow a Sonning è ancora più bello. L'antica e grandiosa abbazia di Bicham, le cui mura di pietra risuonarono un tempo dalle grida dei cavalieri templari, che in un certo periodo fu la dimora di Anna di Cleves e che in un altro della regina Elisabetta, si trova sulla riva destra appena a mezzo miglio a monte del ponte di Marlow. L'abbazia di Bicham ha un ricco patrimonio melodrammatico. Contiene una camera da letto rivestita da razzi e una stanza segreta nascosta nella parte alta, dentro lo spessore delle mura. Qui di notte vaga ancora il fantasma di quella Lady Holly che percosse a morte il proprio bambino cercando di pulire le sue mani spettrali in uno spettrale catino. La riposano Warwick, il creatore dei monarchi, ormai indifferente a cose futili come i re e i regni terreni, nonché Selsbury, che a Poitiers diede prova di valore. Poco prima di giungere all'abbazia e proprio in riva al fiume c'è la chiesa di Bicham e forse se esistono al mondo tombe che valgono una visita sono le tombe e i monumenti della chiesa di Bicham. Fu mentre navigava con la sua barca sotto i faggi di Bicham che Shelley, il quale abitava allora a Marlow, oggi si può vedere la sua casa in West Street, compose la rivolta dell'Islam. Vicino alla chiesa di Hurley, un po' più a monte, ho pensato spesso che avrei potuto fermarmi un mese senza avere il tempo sufficiente a gustare tutta la bellezza del panorama. Il paese di Hurley, a cinque minuti dalla chiusa, è tra i più antichi tra quelli che si trovano sul fiume e infatti risale, per citare la bizzarra fraseologia di quei giorni remoti, ai tempi del re Sebert e del re Offa. Subito dopo la chiesa, risalendo, c'è Danesville, dove una volta si accamparono gli invasori danesi durante la loro marcia verso il Gloucestershire. Ancora un po' più in là, rannicchiati in una dolce insenatura del corso d'acqua, vi è ciò che è rimasto dell'abbazia di Mad Menham. I famosi monaci di Mad Menham, o Circolo del Fuoco Infernale, come veniva chiamata comunemente, di cui faceva parte il famoso Wildcase, costituivano una confraternita il cui motto era Fa come ti piace, e quell'invito è ancora iscritto sopra il diroccato portone dell'abbazia. Molti anni prima che fosse fondata quella finta abbazia con la sua congregazione di buffoni irriverenti, sorgeva nello stesso luogo un convento di tipo più austero, i cui monaci erano assai diversi dai gaudenti che dovevano succedere loro 500 anni dopo. I monaci cirstercensi, la cui abbazia sorgeva lì nel XIII secolo, non portavano altri indumenti se non rozzetuniche col cappuccio, e non mangiavano né carne, né pesce, né uova. Dormivano sulla paglia e si alzavano a mezzanotte per celebrare la messa. Passavano le giornate a lavorare, a leggere e a pregare. Tutta la loro vita era avvolta da un silenzio mortale, poiché nessuno parlava. Una torva confraternita che conduceva a una torva esistenza in quel dolce luogo che Dio aveva fatto così splendente. Strano che le voci della natura che li circondavano, il lieve canto delle acque, il sussurro dell'erba fluviale, la musica del vento impetuoso, non riuscissero a insegnare a quei monaci un significato della vita più autentico, se ne stavano là in ascolto nelle lunghe giornate di silenzio, aspettando una voce dal cielo. E dire che dall'alba al tramonto e durante la notte solenne quella parlava loro in una miriade di toni, ma essi non la udivano. Da Mad Menham alla dolce chiusa di Hambledon, il fiume trabocca di serena bellezza, ma dopo Greenlands, la non interessante residenza affacciata sul Tamigi del mio giornalaio, un vecchio signore quieto e senza pretese che spesso si può incontrare da queste parti durante i mesi estivi, mentre rema con stile semplice e vigoroso, oppure chiacchiera cordialmente con il vecchio guardiano della chiusa che sta attraversando, fino all'altro lato di Henley, diventa alquanto spoglio e monotono. Ci alzammo ragionevolmente di buon'ora il lunedì mattina a Marlow e andammo a fare il bagno prima di colazione. Sulla via del ritorno, Mon Mercy fece una figura da cretino. L'unico argomento sul quale Mon Mercy e io abbiamo opinioni molto diverse è i gatti. A me i gatti piacciono, a Mon Mercy no. Quando incontro un gatto io dico povero Pussy e mi chino a solleticarlo dietro alle orecchie. Il gatto drizza la coda e lei rigidisce come fosse di ferro, inarca la schiena e mistrofina il naso sui calzoni. E tutto è cordialità e pace. Quando Mon Mercy incontra un gatto tutta la strada lo viene a sapere e in dieci secondi vengono sprecate tante parolacce da bastare a un uomo mediamente rispettabile per tutta la vita se usate con giudizio. Non biasimo il mio cane di solito mi contento di dargli una botta in testa o prenderlo a sassate poiché attribuisco questo alla sua natura. I fox terrier nascono con un peccato originale moltiplicato per quattro rispetto agli altri cani e ci vorranno anni e anni di sforzi pazienti da parte di noi cristiani per apportare un miglioramento apprezzabile nella natura faccino e norosa dei fox terrier. Ricordo che un giorno mi trovavo nell'atrio dei grandi magazzini di Haymarket e tutto intorno a me c'erano dei cani che aspettavano il ritorno dei padroni che facevano acquisti all'interno. C'erano un mastino un paio di colli un San Bernardo alcuni cani da riporto e dei Terranova un bassotto un barboncino francese con molti peli sulla testa ma con la rogna sulla schiena un bulldog alcuni strani animali dalle dimensioni di topi e una coppia di Yorkshire. Stavano tutti a cuccia pazienti buoni e pensierosi una pace solenne sembrava regnare in quell'atrio l'ambiente era pervaso da un'atmosfera di calma e di rassegnazione di tenera malinconia poi entra una dolce signorina con un fox terrier dall'aria mite e lo lasciò legato tra il bulldog e il barbone quello si sedette e si guardò attorno per un minuto poi alzò gli occhi al soffitto e pareva a giudicare dalla sua espressione che pensasse a sua madre poi sbadigliò poi incominciò a guardare gli altri cani tutti silenziosi gravi e pieni di dignità guardò il bulldog alla sua destra immerso in un sonno senza sogni guardò il barboncino dritto e altezzoso alla sua sinistra poi senza una parola di preavviso senza un'ombra di provocazione mollò un morso alla zampa anteriore del barboncino che gli era vicino e un guaito di dolore risuonò nella penombra del vestibolo il risultato di quel primo esperimento sembra soddisfarlo perciò decise di continuare e di vivacizzare l'ambiente con un balzo scavalcò il barboncino e sferrò un vigoroso attacco a un colli quello si ridestò e intraprese subito una fiera e rumorosa a zuffa col barbone allora il fox terrier ritornò al proprio posto e azzannò un orecchio del bulldog tentando di cacciarlo via il bulldog animale curiosamente imparziale si scagliò su tutto quello che gli capitava a tiro incluso l'usciere il che diede al caro piccolo terrier l'opportunità di godersi una rissa personale senza interferenze con un altrettanto volenteroso Yorkshire nessuno che conosca la natura canina avrà bisogno che gli si spieghi come nel frattempo tutti gli altri cani si battevano come se da quella baruffa dipendessero i loro affetti e il loro benessere i cani grandi se le davano indiscriminatamente e i piccoli si azzuffavano a loro volta e riempivano gli attimi liberi addentando le zampe dei cani grandi il vestibolo si era trasformato in un pandemonio e il fracasso era spaventoso fuori da nello hay market si era radunata una folla che domandava se ci fosse un'assemblea parrocchiale o altrimenti si stava ammazzando qualcuno e perché sopra giunsero uomini muniti di pali e di corde e tentarono di separare i cani mentre veniva chiamata la polizia nel mezzo di quella sommossa ritornò la dolce signorina afferrò quel suo dolce canietto che aveva sistemato quel maleducato della Yorkshire per un mese e ora aveva l'espressione di un'agnellina appena nato stringendolo fra le braccia lo baciò e gli domandò se non l'avessero ucciso e che cosa gli avessero fatto quei cagnacci brutali e lui si rannicchiò addosso e la fissò in volto come un'occhiata che sembrava dire oh meno male che sei venuta a portarmi via da questa scena disgustosa lei disse che quelli dei magazzini non avevano il diritto di permettere che delle bestiacce selvagge come quelle venissero messe insieme con i cani dall'agente rispettabile e che lei aveva una gran voglia di denunciare qualcuno tale è la natura del fox terrier perciò non condanno mon mercy per la sua tendenza ad azzuffarsi con i gatti ma lui stesso quella mattina si ripentì di non averla repressa come ho già detto stavamo ritornando da un bagno e a metà di high street da una delle case un gatto sbucò davanti a noi e cominciò a trottellare attraverso la via mon mercy lanciò un grido di gioia il grido di un duro guerriero che vede il nemico a portata di mano il genere di grido che forse sfuggì a cromwell quando gli scozzesi scesero giù per la collina e si slanciò dietro la sua preda la vittima di mon mercy era un micione nero io non ho mai visto un gatto più grosso dall'aspetto meno raccomandabile aveva perso mezza coda un orecchio e una notevole porzione di naso era un animale lungo e dall'aria muscolosa c'era in lui un qualcosa di calmo e soddisfatto mon mercy si precipitò su quel povero gatto a una velocità di 20 miglia orarie ma il gatto non affrettò l'andatura non sembrò aver afferrato l'idea che la sua vita era in pericolo continuò a trottellare serafico finché il suo potenziale assassino fu a una yarda di distanza allora il gatto si voltò e si sedette in mezzo alla strada e guardò mon mercy con una cortesa espressione interrogativa che diceva si cerca me mon mercy non manca di ardimento ma nell'aspetto di quel gatto c'era qualcosa che avrebbe potuto gelare il cuore del cane più temerario si fermò di colpo e ricambiò lo sguardo del micione nessuno dei due parlò ma ci si può facilmente immaginare una conversazione chiara come segue il gatto posso fare niente per lei mon mercy no no grazie il gatto non faccia complimenti chissà se le occorre qualcosa mon mercy retrocedendo più giù per high street oh no proprio niente davvero non si disturbi io temo di aver commesso un errore credevo di conoscerla mi spiace di averla disturbata il gatto non c'è di che è stato un piacere sicuro che non le occorre niente mon mercy continuando a rinculare sicurissimo grazie sicurissimo molto correttese da parte sua buongiorno il gatto buongiorno poi il gatto si alzò e riprese a trotterellare mentre mon mercy incastrando nel suo incavo quella che chiama la propria coda ritornava verso di noi e si metteva in disparte nelle retrovie ancora oggi se si pronuncia la parola gatti davanti a mon mercy lui si fa visibilmente piccino e vi guarda implorante come per dire per piacere no dopo colazione andammo a fare la spesa e rifornimmo la barca per tre giorni George disse che dovevamo comperare della verdura che non era sano non mangiarne disse che le verdure erano piuttosto facili da cucinare e che se ne sarebbe occupato lui così comprammo dieci libri di patate otto galloni di piselli e qualche cavolo all'albergo prendemmo un pasticcio di carne due crostate di ribes e una coscia di montone oltre a frutta dolci pane e burro marmellata uova pancette e altre cose utili di cui ci rifornirmo in città ricorderò sempre la partenza come uno dei nostri più grandi successi fu dignitosa e solenne pur senza ostentazione in ogni negozio in cui eravamo stati avevamo insistito perché la roba ci fosse portata da un fattorino lì per lì niente sì signore ve la mando subito il ragazzo arriverà prima di lei per poi perdere tempo ad aspettare all'imparcadero e ritornare due volte al negozio a litigare aspettavamo che il cesto fosse pronto e portavamo il ragazzo via con noi visitammo anche un bel po' di negozi adottando in ciascuno il medesimo principio ne conseguì che quando avemmo finito eravamo seguiti dal più bell'assortimento di garzoni con ceste che si possa desiderare al mondo e la nostra marcia finale in mezzo alla high street fino al fiume deve aver costituito lo spettacolo più imponente che Marlowe avesse visto da molto tempo l'ordine della processione era il seguente Montmercy con un bastone in bocca due bastardi dall'aria poco rispettabile amici di Montmercy George carico di cappotti e coperte che fumava una pipa corta Harris che tentava di camminare con grazia disinvolta portando una valigia rigonfia in una mano e una bottiglia di succo di limetta nell'altra garzone del verduraio e garzone del panettiere con ceste facchino dell'albergo con paniere ragazzo del pasticcere con cesta garzone del droghiere con cesta cane a pelo lungo garzone del formaggiaio con cesta tuttofare con borsa amico del cuore del tuttofare con mani in tasca e pipetta in bocca ragazzo del fruttivendolo con cesta il sottoscritto con tre cappelli e un paio di stivali e una fintaria di non saperlo sei monelli e quattro cani randaggi non appena arrivamo all'imbarcadero il barcaiolo disse scusate signori la vostra è una lancia a vapore o una casa galleggiante quando lo informammo che era una barca a due coppie di re mi sembrò sorpreso quella mattina passammo parecchi guai con le lancia a vapore eravamo proprio alla vigilia della settimana di Henley e ne arrivavano a bizzeffe alcune da sole altre con case galleggianti a rimorchio io detesto le lancia a vapore come credo che accada a ogni canottiere non mi capita mai di vedere una lancia a vapore senza desiderare di attirarla in un punto isolato del fiume e di strangolarla con favore del silenzio e della solitudine c'è una sfacciata tra cotanza in una lancia a vapore che ha il potere di risvegliare in me gli istinti peggiori e di farmi rimpiangere i miei giorni andati in cui si poteva andare in giro comunicando alla gente la propria opinione per mezzo di scure arco e frecce l'espressione sul volto dell'uomo che man in tasca se ne sta a poppa fumando un sigaro è sufficiente a giustificare di per sé un'infrazione della pace e l'arrogante fischio che vi ingiunge di togliervi di mezzo basterebbe ne sono certo a garantire un verdetto di omicidio giustificato da parte di qualunque giuria di gente del fiume perché noi ci togliessimo di mezzo dovevano fischiare se mi consente senza voler fare il gradasso credo onestamente di poter dire che da sola la nostra barchetta durante quella settimana procurò alle lanci a vapore più fastidi e ritardi incidenti che non tutte le altre barche del fiume messe insieme lancia a vapore in arrivo gridava uno di noi avvistando il nemico in lontananza in men che non si dica tutto era pronto a riceverla io bloccavo il timone e Harris e Giorgio si sedevano ai miei fianchi tutte e tre con le spalle alla lancia e la nostra barca si spostava placidamente verso il centro del fiume la lancia avanzava fischiando e noi continuavamo a spostarci quando ci trovavamo a una distanza di un centinaio di yard incominciava a fischiare freneticamente e i passeggeri si sforgevano dai parapetti e gridavano ma noi non li sentivamo mai Harris era intento a raccontarci un aneddoto su sua madre e Giorgio e io non ne avremmo voluto perdere una parola per tutto l'oro del mondo poi la lancia metteva un sibilo finale che per poco non faceva scoppiare la caldaia e faceva macchina indietro sbuffando a vapore e virava di bordo e andava ad arenarsi tutti i passeggeri si precipitavano a poppa e ci strillavano contro come pure la gente sulla riva e anche le altre barche di passaggio si fermavano a unirsi al coro finché l'intero fiume nel raggio di miglia a monte e a valle era uno stato di tumulto furioso allora Harris interrompeva la sua narrazione nel punto più interessante alzava uno sguardo blandamente sorpreso e diceva a Giorgio per bacco Giorgio che mi prenda un colpo se non c'è una lancia a vapore e Giorgio rispondeva beh lo sai che mi è parso di sentire qualcosa dopodiché diventavamo nervosi e confusi e non sapevamo come togliere di mezzo la nostra barca mentre i passeggeri della lancia si assiepavano per darci istruzioni rema tu destro idiota indietro col sinistro no non tu l'altro molla i frenelli adesso remati insieme non così oh porca poi ammainavano una barca e venivano ad aiutarci dopo un quarto d'ora di sforzi riuscivano a toglierci d'intralcio e potevano proseguire noi li ringraziavamo con calore e gli chiedevamo di rimorchiarci ma si rifiutavano sempre avevamo scoperto un bel modo per irritare i passeggeri delle lance di tipo più aristocratico li scambiavamo cioè per una gita autunnale di impiegati e chiedevamo se erano del gruppo Kubit oppure del dopolavoro di Vermont's Day e potevano prestarci un tegame le vecchie signore non avveccia il fiume hanno sempre una gran paura delle lance a vapore ricordo di aver risalito il corso una volta tra Staines e Windsor un tratto d'acqua particolarmente ricco di quelle mostruosità meccaniche con una comitiva di cui facevano parte tre dame del genere fu molto emozionante non appena compariva a distanza una lancia a vapore loro insistevano per sbarcare e per andare a sedersi sulla riva alla vista dicevano di essere desolate ma si sentivano in dovere verso le loro famiglie di non essere avventate vicino alla chiusa di Embledon ci ritrovammo a corto d'acqua perciò prendemmo il nostro orcio e andammo alla casa del custode a chiederne un po' George era il nostro portavoce inalberò un sorriso accattivante e disse sarebbe così gentile da darci un po' d'acqua? certo rispose quel vecchio galantuomo prendetevene quanta ne volete e lasciate il resto grazie infinite mormorò George guardandosi attorno dove la tiene? è sempre nello stesso posto figliolo fu l'imperturbabile risposta proprio dietro di lei non la vedo disse George voltandosi che Dio la benedica dove ha gli occhi? fu il commento dell'uomo mentre faceva ruotare George e gli indicava il fiume a monte e a valle è abbastanza visibile non le pare? oh esclamò George afferrando il concetto ma non possiamo bere il fiume capisce? no ma potete berne un po' replicò il vecchio è quello che io bevo da 15 anni a questa parte George disse che il suo aspetto dopo la cura non era tale da costituire una pubblicità sufficientemente buona per il prodotto e che lui avrebbe preferito l'acqua di una pompa ne trovammo in una casetta un po' più a monte oserei affermare che anche quella era solo acqua di fiume se lo avessimo saputo ma non lo sapevamo perciò era tutto a posto quel che l'occhio non vede non mette in subbuglio lo stomaco una volta più in là provammo l'acqua del fiume ma non fu un successo stavamo scendendo con la corrente e ci eravamo fermati per prendere il tè in un'insenatura nei pressi di Windsor il nostro orcio era vuoto e dovevamo scegliere se rinunciare al tè o attingere acqua dal fiume Eris era per correre il rischio disse che non c'era pericolo se facevamo bollire l'acqua disse che i vari germi velenosi presenti nell'acqua sarebbero stati uccisi dall'ebollizione così riempimmo il pentolino con l'acqua del Tamigi presa nell'insenatura e la facemmo bollire e facemmo molta attenzione a che bollisse il tè era pronto e ci stavamo mettendo comodi per berlo quando Giorgio con la tazza a metà strada in direzione delle sue labbra si arrestò esclamando e quello cos'è? cos'è cosa? domandammo a Eris e io quello disse Giorgio guardando a Occidente Eris e io seguimmo il suo sguardo e vedemmo scendere verso di noi sulla pigra corrente un cane era uno dei cani più quieti e paciosi che avessi mai visto non avevo mai incrociato un cane che sembrasse più appagato dall'animo più sereno navigava sognante sulla schiena con le quattro zampe ritte in aria era quello che io definirei un cane in carne pasciuto con un torace ben sviluppato avanzava sereno dignitoso e calmo finché non giunse di fianco alla nostra barca e lì tra i giunchi si arenò rilassandosi e sistemandosi comodamente per la notte Giorgio disse che non voleva nessun tè e vuotò la tazza nel fiume nemmeno Eris aveva sete seguì il suo esempio io avevo già bevuto metà del mio ma me ne rammaricavo domandai a Giorgio se pensava che potessi beccarmi il tifo disse oh no riteneva che avessi delle buone probabilità di scamparla in ogni caso lo avrei scoperto nell'arco di un paio di settimane risalimmo la zona stagnante fino a Wargrave è una scorciatoia che porta fuori dalla riva destra a mezzo miglio a monte dalla chiusa di Marsh e vale la pena di prenderla perché è un breve tratto di fiume carino e ombroso che ha anche il pregio di abbreviare il tragitto di quasi mezzo miglio naturalmente l'imbocco è puntellato di pali e di catene e circondato da cartelli che minacciano ogni sorta di torture di tensioni e morte a chiunque si azzardi a mettere remo nelle sue acque mi meraviglia che qualcuno di quei bifolchi rivieraschi non rivendichi la proprietà dell'aria del fiume e non minacci una multa di 40 cellini a chiunque la respiri ma con un po' di furbizia pali e catene si possono evitare facilmente quanto ai cartelli se vi avanzano 5 minuti e non c'è nessuno nei paraggi potete tirarne giù uno o due e scaraventarli nel fiume a metà della scorciatoia sbarcamo per pranzare e fu durante quella colazione che George e io non potesse mai essere spaventoso quanto quello che avevamo George e io ecco andò così eravamo seduti su un prato a una decina di yard dal bordo del fiume e ci eravamo appena sistemati per nutrirci comodamente Harris aveva il pasticcio di carne sulle ginocchia e lo stava tagliando mentre George e io aspettavamo con i piatti pronti avete un cucchiaio lì? disse Harris mi serve un cucchiaio per il sugo il cesto era vicino alle nostre spalle George e io ci voltammo entrambi per prendere il cucchiaio impiegamo forse 5 secondi per trovarlo quando ci voltammo di nuovo Harris e il pasticcio di carne erano spariti era un prato vasto e aperto non c'erano alberi nell'ombra di una siepe nel raggio di centinaia di yard non poteva essere caduto nel fiume dal momento che noi ci trovavamo tra lui e la riva e per farlo avrebbe dovuto scavalcarci George e io guardammo attorno e poi ci fissammo che sia stato rapito in cielo? domandai non avrebbero preso anche il pasticcio disse George l'obiezione aveva un suo senso e scartammo l'ipotesi celeste Jerry George scendendo su un piano di pratica banalità che c'è stato un terremoto poi aggiunse con una nota di tristezza nella voce peccato che proprio lui avesse quel pasticcio da tagliare con un sospiro volgemmo di nuovo lo sguardo verso il punto in cui Harris e il pasticcio erano stati visti per l'ultima volta su questa terra allora ci gelò il sangue nelle vene e ci si rizzarono i capelli scorgendo la testa di Harris e solo la sua testa che sbucava di scatto tra l'erba alta col viso paonazzo sul quale era dipinta un'espressione di profondo sdegno George si riebbe per primo parla gridò e dici se sei vivo o morto e dov'è il resto di te oh non fare il somaro disse la testa di Harris e sono certo che l'avete fatto apposta fatto cosa esclamammo George e io farmi sedere qui che maledetto scherzo idiota forza prendete il pasticcio e dalle viscere della terra o così ci parve scaturì il pasticcio molto scomposto e danneggiato dopodiché si arrampicò Harris arruffato sudice e bagnato senza accorgersene si era seduto proprio sull'orlo di un piccolo fosso che l'erba alta nascondeva alla vista inclinandosi un po' all'indietro ci era precipitato dentro con tanto di pasticcio disse che in vita sua non aveva mai provato tanto stupore come nel momento in cui si era sentito sprofondare incapace di formulare una sia pur vaga congettura su quel che gli stava accadendo sulle prime aveva pensato che fosse giunta la fine del mondo a tutt'oggi Harris è convinto che George e io avessimo premeditato tutto così l'ingiusto sospetto insegue persino i più incolpevoli può sfuggire alla calugna chi davvero